Se perde non c'è tutto niente Ah quindi si riesce a guadagnare? Vabbè facciamo qui c'è la cazzo dai Prima di un minuto voglio vedere se prima di un minuto Non la metterà a te, non la metterà Quanto? Non è addentata Guardalo, guardalo Ehm Ehm E' qualcosa della maglia guarda E' un po'è la maglia 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 Guardalo quanto fa? Dobbiamo arrivare più a me un minuto e 10 Guarda guarda Non ti do niente non ti do? No A che mancano ma che mancano ah, un minuto dietro ah, ma accanto alla rovescia quindici, quattordici, eeeh dodici, unici, quattro tre, due, uno vai vuoi bere? io non bevo mamma donna non bevo Paolo, la tua solita frase? davite bella